Al comunale Rino Mercante di Bassano arriva la diciottesima vittoria per i ragazzi di mister Stefano Cesarano che si impongono 2 a 1 sul Bassano. Subito in vantaggio il Montecchio Maggiore grazie a un autogol arriva poi sempre nel primo tempo il raddoppio con Gubian. Il Bassano nel secondo tempo cerca di recuperare Montecchio che resta in dieci gol del Bassano al trentesimo del secondo tempo con Amoro e poi emozione al cardiopalma al minuto numero 96 quando il Bassano si guadagna un calcio di rigore ma Santiago Cailotto l'estremo bianco rosso si supera sventa il gol e fa sì che il Montecchio Maggiore si porti a casa questa importantissima vittoria che lo proietta a più 5 sul Prodeco Montebelluna. Big match il 23 di marzo proprio tra le prime due della classe tra Monte Prodeco e Montecchio Maggiore. Classifica marcatori che vede al comando Esteban Bordan del Chions con 15 gol a seguire Abdul Buntar Bassitt con 13 gol. Per quanto riguarda i migliori attacchi al primo posto il Charlene Smuzzane con 51 gol a seguire Montecchio Maggiore, Prodeco e Bassano. Per quanto riguarda le migliori difese il Montecchio Maggiore con 19 gol. Rivediamo la parata di Santiago Cailotto proprio al 96esimo che permette al Montecchio Maggiore di portarsi a casa questi tre importantissimi punti.